Convergenze è una società commerciale di distribuzione 100% italiana, vogliamo dire un po' con una visione futura, visto che siamo al festival del futuro, nella selezione dei prodotti e dei servizi che vuole distribuire, che intende distribuire in Italia. Ha tre divisioni, una per prodotti dedicati al mondo retail, quindi anche utilizzo domestico, una digital con delle applicazioni anche innovative che abbiamo presentato e che stiamo presentando al mercato e una nel campo degli strumenti, dei robot. Devo dire che quest'ultima unit è quella che ci sta un po' eccitando di più, visto che la presentazione di questi robot sta creando un interesse particolare. Pud Robotics è uno start-up cinese nato nel 2016, che ha avuto una crescita impressionante, raggiungendo oggi già 3.000 dipendenti, grazie a un business plan abbastanza innovativo anche nell'area robotica della preparazione e progettazione dei robot, perché sono dedicati finalmente non solo alle grandi industrie, ma a un uso quasi domestico e quindi con un'efficienza e una semplicità di utilizzo che i robot industriali prima non avevano. Sono stati presentati 5 modelli per le varie soluzioni applicative nell'area del trasporto delle cose da un punto A a un punto B, però la loro capacità, l'interattività, la semplificazione nella preparazione del settaggio del robot consente di utilizzi diversi. Ospedali per esempio per portare medicinali da ambienti sani, sani inteso non a rischio di infezioni, verso ambienti con delle protezioni legate a soggetti infettivi, quindi aree a rischio. Nelle RSA per portare i medicinali agli ospiti, ma anche come effetto proprio di accompagnamento per esempio nelle fiere o in ambienti ampi dove il personale, la persona, l'avventore, l'ospite può interagire con un robot per farsi accompagnare a una destinazione. Gli ultimi nati purtroppo in funzione al Covid sono dei robot che poi hanno funzione di disinfettazione, disinfezione e igienizzazione degli ambienti in modo che uffici o aree che vengono chiuse la sera possono delegare un robot e non una persona fisica a disinfettare con i prodotti dedicati al mondo della disinfezione, comprese delle lampade UVA che si aprono in automatico e quindi delegando a un robot una funzione che magari fatta dal personale può essere anche pericolosa.